Hallo Susamen, il mio nome è Alissa e nel 2017 mi sono laureata in scienze della mediazione interlinguistica e interculturale con le lingue inglese e tedesco. Studiare lingue nel mondo della globalizzazione è fondamentale non soltanto per imparare a comunicare ma per imparare a comprendere. Attualmente sono back office commerciale estero presso l'azienda Living Divani, un'azienda attiva a livello internazionale nel settore dell'arredamento e mi occupo dei clienti di lingua inglese e di lingua tedesca. La lingua tedesca a livello professionale è davvero molto richiesta e se vi state chiedendo quanto effettivamente la utilizzi a livello lavorativo vi assicuro che la vera domanda è quanto io effettivamente utilizzi la lingua italiana. Detto questo vi auguro tanta fortuna o meglio, fischluck! Tschüss!